Ah, vedete quella bella casetta Ehi a tutti ragazzi, oggi ragazzi siamo qui, tornati in questo nuovo video per fare una cosa che non è mai stata portata su YouTube Italia Oggi siamo in compagnia di Francesco, Davide, in realtà anche lui, lui è Davide 2 invece, lui è Davide 1 Comunque vi lascio qui sotto in iscrizione i loro canali e vi lascio anche qui sotto in iscrizione i loro account Instagram Specialmente quello di Monte perché ragazzi ha bisogno un attimo Oggi siamo qui, tornati per andare a visitare delle casette abbandonate e lì c'è una casa per farvi capire Oh, chi è? Io Come chi è? Sono io, le Ah, Monte, è bella Eh M'hai chiamato te Sì, mi ammazzo No Oddio, è grande Tocca, passe le foto per Instagram che mi chiamo, se vi show official, mi raccomando, seguitemi E anche appunto che poraccio, è un poraccio, popopoporaccio dei follower Ah, vedi che caruccia che è sta casetta Vai Valè Per sicurezza, lanciane uno, va Bella, non si è manco sentito il rumore Ah, vedi te, gli haters che ci stanno là tutti i caproni Ah, è tutto chiuso, tipo con delle reti E ora ragazzi, tocca risolvere No, raga, a parte gli scherzi, guarda, questo qua l'hanno rotto l'altra volta, eh L'hanno richiuso Vi uccideremo Oh, padre E guarda qua, non dovete morire Vi uccideremo tutti con questa croce, madonna che angoscia Ah, mannaggia Vole Sì Guarda che robetta Vanno venite la croce Ciao, dono, benvenuto Bella, eh Salve Per me, permesso, scusate Vi uccideremo Oh, vuoi un po' d'acqua, ce l'hai sentito? Madonna Raga, guarda che figo sto occhio, pure ha fatto stra bene Vittoria Ciao, Vittoria Ciao, Vittoria Madonna, che angoscia No Oddio, guarda qua L'ho fatto il santo naturale Raga, vuoi un po' d'acqua Questa è in camino Ha appena lanciato la bubola Comenti, cosa è stato? Guarda la foto Come, scusate Come, scusate Come hai detto? Ah, vedi Che figo Vi troveremo Vi troveremo Belle ste croce Qua che è? Oh, padre Che angoscia Che angoscetta Oddio, che figo Chi è? Dante È Dante È Dante Uh, che bello sto cappio Jade Non può fare nulla Che cazzo è Jade? È una Che smette tanta ansia Le finestre, regà Sono belle, veramente Croce al contrario qua Croce al contrario qua Proprio appena è entrato Poi puoi insieme Ah, ti stai cagato, eh Oh, ho fatto Guardate che figata qua Che c'è tipo la band Ma Monte Ti devi le pace Tutto il disegno bello E poi ti senti che sei brutto Guarda che figa Qua macchina fotografica E c'è sta Monte Guarda che fa Regà qua c'è una bomba Viva Cristo Sto soffitto è messo parecchio bene È tutto colorato qua Sta muffa di ogni colore Procediamo per di qua Che Ah Ruffina sei finita Ruffina sei finita Ma si chiudono queste porte? Si chiudono? Tante sembra un esploratore Con lo zaino Oh Che uomo ragazzi Ha fatto Qua c'è una luce E qua c'è un finestro Oh mio Dio Si muove da solo Oh no Che vuoi dì tonno? Rio mare Tonno a rio mare No Che sch... Che sch... Oh padre Madre che moce No, parello Cosa? Di qua che c'è niente Oh Dio Questi sono dei tubi Non so che caspita Questo che mi sa Pover bagno E là sotto che c'è? Da sotto ci scopavano Sai che foto? Sai che foto mentre... Io rega Andrea Al piano di sopra Guarda Madò 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 Aspetta Dobbiamo tradurre quel consiglio Morire Tutti Noi Morire tutti noi Questa che è Stasera Stasera Vabbè Non ricordi Non c'era morto Oddio Guarda che schifo Oh mio Dio No No Zì Guarda questa Una foto qua c'è stata Ma è schifissimo Oddio Guarda se te spingo Tipo è caschi Viva Dio Viva Dio Oddio Che brutto Chi se vuole fa un bel bagnetto Oddio Oddio Là c'è il butter È per butter Oddio Guarda qua lo scarico Oh madre Arriva al piano di sotto Che figo Satana è un pezzo di merda C'è scritto Non sto scherzando Che cosa Oddio Sì Satana è un pezzo No vabbè Io continuo la mia esplorazione Salve Qualcun due raga È proprio brutta Qua tutti i calcinacci Ma appare tipo uno là E me cago in mano Ah vedi che bella piantagione Che hanno coltivato Vedo che sta crescendo Il nostro orticello Oddio Che c'è scritto No Toggi lo sentivo qualcosa Sì pure io sentivo Facciamo il gioco Chi lancia la dietro più lottano No 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 Ho mancato tutto Come va Comunque in questa casa ragazzi Mi ha un pochino lasciato delusa Pensavo ci fosse più Horror Ma passeremo la prossima Che sarà stupenda Sicuramente Io direi Di cambiare Oh Cambiare casa Ah Andiamo a questa Mancia sta La ceppa Buon tanto qua È poco figo ragazzi Tutto il panorama E poi c'è sta casetta Qua a mezzo Niente È la casa dei villager Dove c'è la cesta Oddio è vero Quella dei villager Davvero c'è la cesta Di minecraft Forse ci troviamo i diamanti Per me qua ci mettono le pecore Morte Perché È vero È un materasso questo È un materasso Aspetta Spazioso Non esageriamo Guarda come saluta Qua 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 E poi esce Il grande buffo Madonna Che schifo No zì È orribile Che schifo Che schifo Sto tipo in punta dei piedi Oddio guarda cosa stavo per schiacciare No guarda cosa schiacciare No che schifo Ah vedite le pecorelle E poi raga adesso stiamo andando a quella casetta laggiù Che mi mette un'ansietta Oh io sto pari Poi non c'è passata la capaccia Ma raga Vabbè aggiriamoli Ma che fa Ma è svenuto Io mi ricordo di aver visto i video Di pecore Che fanno finta Ad essere morte Quando ci hanno paura E io qua mi avevo tutte sdragliate No Bella Pemmonte Che si vedo tanto Lui Sto brato verde E poi c'è lui Con la felpa Arancione Quindi mi sto dicendo Che prima non c'era quel camper E mo C'è sta Voi non potete capire Che rottura che sono Ste mosche che ci girano attorno Stavate perché Perché c'è sta Sto canale morente qua Che li attira tutti Ma perché Se magari nascondete il telecamere Se no ve le inculano Ciao ragazzi Oddio Raga C'è Pemmonte Un'ansia Che qua ci abita Tipo qualcuno Cioè guardate A me sembra tipo strabitato Ma che cazzo Ma Ma che è oh Qual è Che cazzo è Sto Raga io entrerei Che bei uccelli Ma che so Babbo io vi saluto Ve lascio il canale in casa Guardate là Raga mu esce uno da qua Ma non c'è le ruote Ah no ce l'ha No si ce l'ha Aspetta che sto con le scarpe Oh Non è un letto Raga mi diverto a fare queste cose Raga vi giuro Sto cosa mette troppo Porco Scappa Corri via Corri via Cristo No raga non ce l'avete sentito Oh ma niente Cristo ma chi è Raga noi stiamo morendo ma Porco due No vabbè Raga non potete capire C'è sentito tipo Boh E poi Sì e poi si è visto Con uscita la finestra No raga Ma sono fatta Madonna Che ansia Che ansietta Orribile Cioè siamo corsi da quella casa E' spucato uno dalla finestra Ho detto Beh oh bella Mi Monta raga E tipo corso io E' quasi pura dalla tele Valeria non si sa E' partito Ma si è fatto Tutta la collina No io dicevo Dove 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 corriamo Dove dove E che dove Guarda sono messo a lui Madonna Se siamo rifatti Tutta la salita Mai più Mai più Spero che questo video Ragazzi vi sia piaciuto Spero si sia sentito Chi caspita Che ha battuto Prima sulla finestra E seppure visto uno Quindi ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Raggiungiamo ragazzi 30.000 like Se volete un video Dove andiamo a visitare Un manicomio Detto questo Niente Io vi lascio Queste 8 iscrizioni Tutti i loro profili Instagram E i canali YouTube Mi raccomando ragazzi Storcalate tutti i miei sociali E in descrizione E in descrizione Ragazzi Ciao 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 belli Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie.